È il senatore Massimo Berutti, segretario regionale per il Piemonte e per il partito Noi Moderati, ad aver presentato ufficialmente questa mattina ad Alessandria il coordinatore provinciale di un partito piccolo, ma che gioca un ruolo importante all'interno della coalizione di centrodestra. Si tratta di Andrea Larosa, originario di Asti e alessandrino d'adozione. Stiamo iniziando questo percorso, perché Noi Moderati vuole essere comunque un punto di riferimento all'interno del mondo di centrodestra, dove di fatto è comunque uno dei quattro partiti di governo nazionale con due gruppi parlamentari e quindi come tale vuole essere attore principale e soprattutto attore attivo nella partita delle regionali, come ha detto Maurizio Lupi nei giorni scorsi, anche nella partita europea, nelle elezioni europee. Quindi direi che è un punto di partenza per un partito piccolo, ma che vuole piano piano crescere, radicarsi e quindi come tale il fatto di partire comunque da un segretario provinciale di fatto non è secondario, perché comunque la partita bisogna costruirla pezzo per pezzo con gente di qualità. Avvocato e docente di diritto civile all'Università Statale di Torino, Andrea Larosa vanta grande dedizione e un impegno anche nel mondo dello sport, è attualmente presidente dell'Alessandria Volley, oltre ad aver militato in ambito calcistico nella Valenzana e nell'Alessandria Calcio. Il neocoordinatore di Noi Moderati ha ribadito, c'è tanta voglia di fare. Un partito che affonda le sue radici nel mondo liberale, nel mondo cattolico, e vogliamo porre una grande attenzione al terzo settore, al sociale, alla famiglia. Quindi in tutto questo si tratta di costruire un ruolo operativo importante, a cominciare dal segretariato provinciale per strutturarsi bene nel territorio e giocare un ruolo anche nella corsa alle regionali. E Massimo Berutti, politico di lungo corso legato alla sua terra, è nativo di Montemarzino nel Tortonese, ha annunciato di voler rappresentare il territorio piemontese, correndo alle prossime elezioni regionali. Sto costruendo con gli amici anche delle altre province, stiamo costruendo la lista in tutto il Piemonte. Vogliamo anche, innanzitutto nel rispetto degli alleati, ma vogliamo costruirci sostanzialmente un percorso insieme agli altri per essere comunque parte attiva.